No, no e ancora no. L'istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari proprio non ci sta e carte alla mano risponde a chi denuncia che l'istituto d'eccellenza, in particolare la ginecologia, non produce e non ricerca. Nonostante la situazione di precarietà legata al trasferimento e alla riduzione dei tempi di sala operatoria e di possibilità di personale, noi abbiamo una produttività che realmente è molto significativa e come dicevo prima molto competitiva a livello nazionale. A replicare è il direttore del dipartimento donna dell'istituto oncologico, nonché il direttore della ginecologia Vito Troiano, che mostra le cifre, quelle vere, ci dice. Intanto ci tiene a precisare che i posti letto della ginecologia sono 4 e non 14, divisi tra le pazienti operate, normalmente due a settimana, per una sola seduta operatoria settimanale e quelle in regime di dei sargeri. Una situazione che dovrebbe cambiare con il trasferimento nell'ex Cotugno, ormai imminente, nella nuova sede infatti alla ginecologia saranno assegnati 10 posti letto e allora sì che le liste d'attesa potranno essere quasi completamente abbattute. Ma torniamo ai numeri. Sono 5 i medici del reparto di ginecologia che solo nel 2009 hanno offerto 9.000 prestazioni, 106 interventi chirurgici e 267 dei sargeri. E se è vero che il ricavo dell'attività degli ambulatori nel 2009 ammonta a 170.000 euro, è anche vero che gli ambulatori sono 3 e sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 e due pomeriggi a settimana fino alle 18. Insomma, l'Istituto Tumori di Bari resta la struttura d'eccellenza che nell'85 ottenne il riconoscimento di IRCS e che ancora lo conserva orgogliosamente. A chi infatti mette in dubbio il rinnovo di quel riconoscimento, il professor Troiano risponde. E' una grande bugia perché tutto questo è stato già superato ed è stato superato sia dalla dirigenza strategica dell'oncologico, dall'assessore alla sanità e dalla conferenza con il ministro Fazio, nel quale quello che è stata l'attività scientifica, i progetti di ricerca riconosciuti altamente validi, non hanno assolutamente messo in dubbio il discorso della riconferma. E' un chiacchiericcio che avviene sempre prima dei rinnovi. Quanto poi alla produzione scientifica, la ginecologia del Giovanni Paolo II è inserita al momento in 8 progetti di ricerca finalizzata e 4 di ricerca corrente, con all'attivo nel 2009 17 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Insomma, le cifre quando sono chiare parlano e dicono molte cose, l'importante è leggerle come meritano. Ma forse l'Istituto Tumori di Bari meriterebbe anche di passare alla sua fase 2, che è quella dell'uscita dalla precarietà, nella quale pure si è stabilizzato per quasi 20 anni quella di una sede definitiva con macchinari propri, quella dell'apertura all'utenza e al territorio. Ma questa è decisamente un'altra storia.